cari amici dei social ultima edizione di baby news il tg nutrizionale che ci ha tenuto compagnia in questi mesi per raccontarvi tutti i benefici straordinari del piperoni di carmagnola che rispetto ad altri ha davvero una marcia in più e ringraziamo per la collaborazione scientifica il laboratorio chimico della camera di commercio di torino e il servizio igiene alimenti e nutrizione dell'as torino 5 e soprattutto ringraziamo voi che ci avete seguiti numerosissimi per cui non perdetevi quest'ultima pillola nutrizionale per star meglio sempre dedicata al peperone di carmagnola che vi aspetta alla sua fiera nazionale sempre qui sui social la vitamina a che arricchisce il peperone di carmagnola è presente soprattutto in forma di beta carotene che come tutti i carotenoidi cioè i pigmenti vegetali di colore giallo rosso arancione protegge la pelle dalla luce solare in eccesso producendo così la sensibilità della cute durante l'esposizione ai rangi solari grazie a tutti